Stamani contraddico assolutamente me stesso, però in realtà si sa che ho questa natura sofistica, per cui un giorno sostengo una tesi e ludicamente, ludicamente, un giorno dopo mi diverte sostenere una tesi quasi opposta. Ecco, quello che è divertente il linguaggio è proprio la sua dimensione di virtualità, anche non aderire fino in fondo a quello che si dice, ma mantenersi in un sistema di giochi linguistici che rende possibile una volta sostenere una tesi e anche nell'immediato dopo sostenere una tesi opposta. Sono quindi così pregiudizialmente contro le ideologie o per ideologie pret-à-porter, cioè che possono essere ammesse e dismesse. No, questo non è vero per tutto, soprattutto per quanto riguarda queste visiofilosofiche. Sì, della filosofia a me piace questa dimensione sofistica, l'adesione radicata, ortodossa alle tesi. Poi, ovviamente, ho il mio sistema di valori, ma nella sfera della narrabilità, della produzione di teoresi, mi diverte il gioco di sostenere tesi diverse, con argomentazioni altrettanto diverse e che giustificano opposte. Quindi, allora, oggi parlo del landscape sessuale, mi direte subito. Perché usi landscape quando normalmente non hai un approccio, anzi, un approccio tutt'affatto positivo all'uso della terminologia in italiano? Perché voglio rendere più credibile, appetibile, vendibile sul mercato delle parole questa parola che vado a mettere in scena. Quindi, paesaggio sessuale sarebbe forse meno... troppo... inizio novecento, troppo veramente subito, appunto, ottonerosai, le marine di Carrà. Quindi, paesaggio sessuale può anche stracci. C'è però landscape sessuale, landscape sessuale, landscape sessuale, cioè questa... ah, landscape... Questa è addirittura barocca, è roboante. E quindi, che cos'è questo? Ma in realtà non è così diversa dal panismo dannunziano. Ecco, ecco, intanto uno trova subito gli antecedenti. Cioè l'idea di avvertire una passione, un'attrazione, che poi si traduce in un risvolto, in un risvolto, in una dinamica erotica, di erotizzazione del corpo, nel caso della Nuzia, allo stare nel paesaggio. Mi sembra che fosse legato alla serie nel bosco, allo stare sdraiato sull'arena, sulla sabbia. Cioè questa percezione, poi probabilmente si trasformava anche, si traduceva animalescamente, anche in pratiche, di autosoddisfazione erotica, di dinamiche unanistiche. Nel caso dell'enscape sessuale, come io sono, visto che non dormo, ovviamente che questo sonno è sempre un sonno frazionato, sempre più collocato, alla fine del pomeriggio faccio un, come si chiama, appunto mi mancano sempre a me, cioè le ore dei pasti in inglese, cioè dinner, no dinner e pranzo. La sera è la, non lo so, comunque ho questo sonno, pasto della sera inglese, ecco, invece di, oppure faccio un pasto inglese della sera verso le sei, che poi è il ritmo dell'ospedale, probabilmente se questo ritmo era stato dall'ospedale significa o che c'è una dimensione umiliante con la quale io subito mi collego, perché gli ospedali italiani hanno sempre avuto la vocazione a umiliare il paziente, a farlo sentire in una situazione di minorità, come se già non fosse abbastanza il fatto di essere malato, oppure perché in realtà sono ritmi che sono più conseguenti a una gestione dei ritmi circadiani, insomma, diciamo che io verso le sei sento il bisogno di fare questo pasto non frugale, assolutamente non frugale, frugante nel senso che non faccio nulla e cerco e frugo nell'armare sperando di trovare quanto più possibile e poi dopo faccio una finta visione televisiva, perché mi ho messo la televisione orribilmente in camera, perché in realtà perché c'è la presa dell'antenna è solo in camera in questa casa, cioè quella che io ho eletto come camera, se no sarebbe fumato, insomma, finisco per far finta di accendere la televisione e addormentarmi, poi ho il risveglio verso le dieci e mezzo e una notte così completamente ridefinita come notte di attività, di disegno, insomma, a un certo punto però poi la permanenza in casa, soprattutto quando sono io a tenere il cane, perché questo cane è in cogestione, in affidamento congiunto, quando il cane è con me ancora a maggior ragione verso le quattro e mezzo, quando diventa possibile quasi la fuoriuscita, cioè il bordo, perché ora abbiamo avuto questi limiti orari, stai a casa per i coprifuoco, belli questi coprifuoco, mi sanno di coperchi, coprite il fuoco, poi ci saranno delle ragioni seriamente militari da cui deriva questo nome. Allora andiamo nella zona di Tirrenia, Tombolo, là dove ci sono paesaggi anche dal punto di vista terrestre, perché qui in zona Livorno vedere una terra che si estende non è solo sul mare, cioè un orizzonte marino è possibile. Invece a Tirrenia anche la parte, diciamo, che guarda verso le apuane, a volte la si vede libera, cioè c'è un'estensione di Tirrenia. Ecco, questi paesaggi così, non quindi panicamente l'essere immerso nella natura, ma l'osservazione di un paesaggio in lontananza, con le sue sfumature cromatiche, soprattutto quelle dell'aurora, dell'alba, mi vengono a mente aurora dalle dita rose, questi rosa nelle più varie nuanze, le più varie sfumature, con queste leggerezze, queste commistioni all'azzurro del mattino, che non hanno niente di, solo apparentemente potrebbero essere associati ai tramonti, proprio perché è un momento di non presenza completa della luce, cioè il sole ancora appunto nella fase aurorale, si manifesta con queste luci diffuse, appunto originariamente rose, rose. Ecco, in questo stadio, in questo stato così osservante, è permeato da queste visioni, percezioni, visioni, visioni nella accezione di totale, però partecipazione, cioè leggo il termine visione per in realtà per riferire di un coinvolgimento di tutti i sensi, polisensoriali, ora c'è quel termine sinestesico, ecco, questa visione sinestesica, questa percezione, questo ascolto sinestesico di questa dimensione aurorale mi apre a un afflato erotico, cioè mi sento sciogliere, mi sento anzi penetrativo di questo visus, e allora appunto a volte si traduce questa in una soluzione anche onanistica. chiaro, a quell'ora non c'è nessuno, e quindi sono attività del tutto auto-visibili, nemmeno viste, perché poi non c'è neppure una volontà, è proprio una pratica istintuale di auto-soddisfazione che si attiva, si lascia, come dire, si lascia fuoriuscire, fuoriesce, mamma mia che ostacoli alla produzione orale a questo mattino, notte mattina, e quindi sono landscape sessuale, ormai la mia attività, perché poi non si espita con acmei, no, è un auto-tangersi, anche appunto, anche semplicemente strofinarsi a lungo, la testa, cioè questo auto-percepirsi e cogliersi nella visione, nella percezione, nell'ascolto di questa dimensione paesaggistico-aurorale, non necessariamente aurorale, perché anche il paesaggio in altre ore a volte mi attiva proprio questa istanza di confusione dei sensi, ecco, di confusione dei sensi. Ora, certo, la dimensione aurorale-preaurorale mi rende più isolato, e questo isolamento, questo sentirmi anche io stesso paesaggio in una relazione extra-umana, cioè la non-presenza di esseri con una forma, ecco, ma di questa soluzione paesaggistica mi apre al desiderio, cioè l'assenza, l'assenza dell'altro paradossalmente, l'assenza di un altro essere, di un'altra esistenza, ma di un'esistenza diffusa, non collocata in una forma corporea, mi apre al desiderio, cioè un desiderio che si attiva in assenza dell'altro, dell'altro e abbia una forma, che abbia una visibilità, che abbia una condizione di vivente circoscritta a una corporeità, sia una corporeità di roccia, di pianta, di cosunque, no, è proprio questa soluzione, la paesaggisticità, l'osservarsi anche, paradossalmente, è anche la perdita del proprio corpo, cioè in questo toccarsi si ha la volontà di, come dire, sciogliersi, donarsi, donarsi a questa visione, a questo senso di sterminato, di immenso, di non collocato in un'esistenza individuale, ecco, questa extra individualità, appunto, quello che alla fine mi eccita, eccita, cioè mi tira fuori, è proprio sentire che fuori, è un fuori libero dalla presenza di qualcuno in particolare, forse è questa, la landscape, e quindi sessualità, cioè desiderarsi e desiderare il paesaggio, lasciarsi desideranti del landscape, come effettivamente lunch, lunch, veramente poi tutto il portato della land art, l'attività di Cristo che copriva, foderava ogni cosa, insieme alla moglie, lì invece c'era la volontà di, probabilmente, una landscape con volontà di possesso del paesaggio, come lo desidero, lo voglio anche possedere, lo inglobo, lo porto a una situazione di packaging, lo pacchetto, avete visto che orrore me l'ha fatto vedere, a fila di una mia amica, ad adolescenze, tutte le attività di de-packaging che ci sono su internet, cioè come spacchettare varie cose comprate, in primis, ovviamente, i soliti smartphone, no, guarda, c'è una procedura, in realtà sono pratiche, para, pubblicitarie, ma c'è anche la follia invece, erotica, come quelli che si erotizzano guardando le scarpe, comprando scarpe di marca, ecco, no, neppure l'oggetto singolo, in realtà, a me, mi erotizza, è proprio la fuoriuscita, non dall'altro come vivente, ma anche dall'altro come oggetto, la extra oggettualità, stare in qualcosa, in un culto d'artista, che si innamora solo della paesaggistica e fa il paesaggio, per cui riduce le cose che appaiono come frammenti irrilevanti rispetto al contesto, che ci sono, ma discrezionalmente potrebbero non esserci, così, ecco, la landscape sessualità è la fuoriuscita dall'individuazione, individuazione sia di viventi che anche di non viventi, no, ti immagini erotizzarsi su un oggetto, no, ce l'ho proprio, non è in questo momento almeno, poi magari domani vi racconto dell'Eros per una scultura, non so se avete visto quel film divertente in cui tre guardiani, tre, diciamo, come dire, preposti alla vigilanza in un museo, sono così innamorati di tre opere che loro vigilano, e in occasione di un trasferimento fanno una sostituzione con dei falsi che fanno realizzare e si portano l'oggetto d'amore, ecco, è proprio l'opposto di questo, cioè non collocare il proprio desiderio su un oggetto in particolare, non collocarlo su una persona, ma dislocarlo su un paesaggio, su un landscape, sull'assenza di individuazione, sull'apertura a una cosa che la si riconosce perché gli si dà un nome, appunto landscape, paesaggio, nella realtà è una sorta di indefinito, di fuga, cioè essere autorizzato da ciò che ti permette la fuga nella singolarità dell'oggetto, nella singolarità, ma anche nella plurivocità delle cose, è la soluzione delle cose, è la soluzione dai viventi, una sorta di di apertura al paradiso, forse di un desiderio di soluzione, anche così, fra virgolette, di scomparsa, di scomparsa, ecco, il mio paradiso dovrebbe essere un paradiso privo, privo di altri, cioè un coro nel senso che è un magma animico, dove le anime non sono singolarmente individuate, ma è un'anima, ecco, sì, in questo senso a volte ho bisogno di fuoriuscita dalla idea di polis, ma invece nell'idea di monos come non, monos è il tutto, l'olon, eh, olon sessuale, non pansessuale, olon sessuale, in questo tutto che non prende definizioni, non prende forme, non si cala, non è imprigionato nelle stampine, negli stampini idee platonici, sì, e quindi si andava I'm a just I'm a landscape sexual because I don't love a single object but I love the indefinity no, non so se questo è inglese, but I don't love no, a volte vi viene bene l'inglese, invece ora mi viene l'inglese che però ha un substrato d'accentazione tedesco, sì, io poi fondamentalmente le lingue non le amo perché mi sembra che anche se è vero che le parole nella loro forma di parola imprigionano settori di realtà diversi e quindi in realtà la transduction, la translation è sempre impossibile, è vero, però alla fine i giri e i giri e i concetti sono similari e quindi di in inglese le stesse ose e posso di in italiano ma chi se ne frega ecco mamma mia se mi sentono mi inseguono mi maltrattano mi maltrattano tantissimo ma chi mi maltratta sì ecco anche questa del doversi non raccontare è una patologia cioè io sono caduto prigioniero di questo di questa urgenza di comunicarmi non lo so io la vivo come un tacquino siccome sono pigro la scrittura il collocarmi tutto in questa punta di matita forse la scuola me l'ha resa pesante la collocazione della parola la trascrizione di un pensiero attraverso l'asticella penna attraverso il pene penna eccomi lo trovo a volte pesante faticoso e questa invece della parola free essendo io poi di origine contadina sicuramente con generazioni di analfabeti alle spalle ma di analfabeti anche ragionanti parlanti cioè un nonno faceva latamente la firma forse delle sigle false però poi pur avendo frequentato la scuola era incapace di scritture però estremamente colto nella gestione linguistica orale nella tradizione orale la tradizione orale del contato del raccontare del commentare ecco rimango allora questi strumenti in qualche modo divengono produttori di sostegno di supporto a un approccio orale allora qui ricito la solita noiosa Pierpaola Pasola che diceva ma io i film li devo fare perché ho bisogno di parlare anche se il sistema cinematografico è gestito dal capitale provo a farne un uso personale attraverso il quale anche criticare quello stesso strumento il sistema di cui mi valgo ecco la stessa cosa io poi al fine questo Youtube essendo un attivo televisivo mi diverte e mi permette di essere contadino non avendoci più una comunità visiva analogica di persone che incontro allora mi invento questa serie di seggiole intorno a me che sono le sedie di Whatsapp e allora e mando e scambio ecco sì io non ho con qualcuno ho dei feedback e con qualcuno che fra l'altro anche stimo molto tipo una mia ex collega che ci siamo sempre così scambiati anche a scuola visioni comuni del comune sofferenziale stare a scuola per così come e come era e continua a essere il purtroppo gestita la dimensione dello stare a scuola va bene allora questa mia natura contadina trova in questo schermo una sua pacificazione una sua riallocazione e ora fra poi lo vado fuori perché attiverò queste pratiche non completamente unanistiche di landscape sessuale diciamo guardo questo che mette in scena se stesso e si racconta sì perché io detesto tutta questa cosa sulla privacy che anche questo arriva dagli Stati Uniti attenti ti vogliono spiare no ma a me me ne frega nulla ma io essendo io un esibizionista pazzesco adoro essere spiato ma sì scoprite tutto di me tutti tutti i peggiori dati sensibili ma venite a conoscenza di qualsiasi mio misterioso anfratto no ma gli inglesi no guai sanno dove stai di casa no guai ma chi se ne frega io personalmente non ho niente da nascondere in più ho una natura di base no assolutamente esibizionistica no questo non è nemmeno necessario che io lo racconti perché è così conclamato quindi tutte queste paranoie sul no prendono i dati la sensibilità che arrivano dall'universo sassone perché gli italiani poi non vedono l'ora di far sapere tutto ma stradutto di dove le combinano cioè ma anche cose più proibite cioè come gli uomini che tradiscono i maschi tradiscono solo per raccontarlo solo per essere scoperti soprattutto dalla moglie ma quindi voglio dire ragazzi non prendiamoci in giro certo sì il pin e la fregatura dei soldi cioè l'essere derubati questo non piace ecco ma a parte questo dato che va da sé che non sa voglia di essere derubati dei soldi dico poi per il resto ma chi se ne frega chi se ne frega cioè no tutta sta osa e questo era privato e quello era privato hai detto che ha 15 anni no hai fatto il no no ragazzi ma questa lì è una pazia ecco nel mio caso diffondete di me qualsiasi informazione fate di me quel che volete spiatemi di ontino ma bene ma almeno cioè dice ma whatsapp si appropria di tutto quello dici ma bene ma benissimo ma poi lo usano per cosa per farmi una pubblicità e provami a vendere una osa ma se non la voglio imparare la ompro ma chi se ne frega cioè ma poi vedrai ti direzionano vabbè però se te intanto partecipi dei soldi poi se te le mandano e ti piacciono davvero ma meno male così mi selezionano prodotti e stanno e mi piacciono invece di andare a darmi pubblicità a caso che mi servano a nulla no guarda io tutta questa noia è dell'inintelligenza ecco il volere non essere spiati è dell'inintelligente c'è da mascherare la propria deficienza e se uno ha bisogno di mascherare la propria deficienza è opportuno che le osse di sé non si debbano far sapere perché si potrebbe scoprire che non capisci un cazzo ecco voglio dire ah 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 questa è bellissima e e invece cioè io non non ho problemi insomma di di sì perché poi c'è tutta questa trafi trasmissione un film un film addirittura di lui viene no ho scoperto che quelli che questo sistema del computer l'unico obiettivo è raccogliere dati ma cosa te ne frega se raccogliono dati l'adoperanno per i cazzi loro state autogestiti gestiti in maniera da muoverti in un mondo dove sanno tutto di te ma qual è il problema no ma raccolta infinita i dati di tutti allora cioè tanto voglio dire il potere ha sempre avuto l'obiettivo di comandare siamo a potere attiva strumenti che gli sono confacenti alla gestione del potere a calcogli i dati no ma allora ma allora ma veramente non c'avete altro a cui pensare cioè queste teste vuote spesso teste vuote sassoni vuote se vengono riempite da queste fole come non saprete mai ah ma voi volete cioè poi capiscono che lavoro devi o puoi fare bene perché così ti fanno fare un lavoro che puoi fare davvero inutile cioè che se non hai le competenze per fare l'ingegnere tu vado a fare l'ingegnere e se vedendo rendendosi conto no di quello che dici o fai si rendono conto che non sei in grado di fare l'ingegnere non ti fanno fare nemmeno i noiosi o i corsi sanno lo puoi fare non ti fanno partecipare ma io lo trovo mi ha tanto malvagio cioè ti sospendono volendo anche da una serie di scanning pallosi noiosi no dove devi dimostrare di saper fare o non fare una cosa se mettono insieme tutto quello di cui hanno concione e si rendono conto che non hai una laurea in ingegneria che le tue istanze di fare l'ingegnere sono del tutto campate in aria ci si adeguerà a quel tipo di sapere quindi ma diamogli ma compiliamo anche in più rispetto a quello che possono attraverso queste dimensioni sapere cioè diamo di noi quanto più possibile di modo da averci poi un feedback che è collegato a meno che ci sia una volontà invece sadica di ah ti piacciono i girasoli allora io la ti mando a casa da mangiare soltanto le margherite che potrebbe anche esse insomma però io ho tutto questo delirio su per cui che si sappia che io desidero il paesaggio mi lascio affascinare dal paesaggio che queste mie pratiche erotiche sessuali stanno in relazione alla fuga dall'oggetto alla fuga dalla persona e basta persone e basta oggetti ma si 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 che che tristezza dice tristezza l'ensche poi è non di idea e allora anche va bene insomma ecco mi piaceva invece l'idea di della casa trasparente della persona trasparente che non ha niente da rendere oscuro all'altro vi ricordate il periodo delle abitazioni trasparenti era le cur busierianamente cioè anche a livello etico si evocava come sensatezza della persona quella di lasciarsi vivere una casa trasparente la persona che non ha niente da nascondere agli altri eh questo era il salubre invece poi gli americani hanno cominciato a pensare che bisognava difenderci da questa volontà di sapere altrui mentre invece prima c'era una volontà di manifestarsi completa è proprio un ribaltamento la trasvalutazione come diceva Nietzsche dei valori cioè dall'autore che necessita di rendersi trasparente e abita nella casa trasparente e non ha niente da mascherare ma anzi si scioglie nella sua completa visibilità si solve in questa visibilità a quello al paladino della privacy a colui che scopre quanto la società dei media abbia intenzione di appropriarsi dei tuoi dati mi sembra cioè sai avessi scritto la recherche se ne appropriassero assumendo come autore un altro forse cioè io prusile boh che palle mi sono fatto il culo a fare tutta questa po' di ricerca di ricerca cioè di scrittura e invece poi non ne risulta l'autore perché se ne è appropriato un altro e la manifesta come in sua quello potrebbe essere un attimo cioè discorso del come si dice dell'autorialità di ditti d'autore ma insomma che era però comunque una palla e invece in questo caso appunto quello di no non avrete i miei dati e purtroppo voglio che mi vedano perché penso non ci sia nulla di interessante da nascondere ecco cioè tutta sta ricchezza nel nell'oscurità no si appropria in questo ricco patrimonio di dati ma mi sembra d'averci grandiose di così grande interesse da tenere all'oscuro delle quali tenere all'oscuro anche un ipotetio potere no francamente almeno averci no delle risorse infinite infinite di idee di che decidi di tenerti per te e che non vuoi far non vuoi far sapere no mi sembra tutta questa volontà di rimpiattare sia rimpiattare i confini della propria ignoranza ecco cioè basterebbe uno si ritenesse diciamo a fine sono ignorante quindi insomma fate un po' ve le volete ecco che io mi ritengo allatamente anche ignorante cioè forse meno ignorante di tanti altri sì perché poi alla fine anche io essendo di famiglia proletaria faccio le mie sgommate al motorino questo è un po' maschilistico fallologocentrico purtroppo ecco mi riconosco in questo maschilista fallologocentrico però insomma boh no mi darebbe noia si inventassero le osse ecco cioè più che sapessero le osse è quello che mi dà noia che si inventino le cose sull'altra questo è veramente tremendo cioè l'orrore non è l'assunzione di dati per poi darti informative pilotarti manipolarti ma l'orrore sarebbe si facessero si facessero visioni che poi erano oggettivi false dell'utente cioè che si diffondessero informazioni false ecco quindi se volessero veramente fare cose orribili non sarebbero a vedere la verità ma diffonderebbero menzogne e lì non c'è bisogno di raccogliere nessun dato basta inventarsi delle belle bugie e allora tutta questa volontà di raccolta dati forse invece la raccolta dei dati mi sembrava la direzione del conservazione o dello schiacciare l'altro sulla propria verità che io lo trovo di grande senso meglio che si sappia quello che sono piuttosto che si inventino quello che non sono ecco francamente fra le due osa mi sembra più interessante essere schiacciato su un dato di realtà che essere invece sollevato o abbassato su un dato di falsità per il quale non c'è bisogno di nessuna istanza di raccorte di aumenti non c'è bisogno di nessuna protezione di privacy ecco tutto probabilmente questo attento a non far capire quelle siete è legato a accettate alla fine quello che raccontano non vero di voi perché così non vi hanno conosciuto ma a me mi dà molto più noia essere frainteso misandesteso stesa di panni piuttosto che essere raccontato per quelle sono ecco c'è in questo forse uno spostamento al rendere intollerabile la verità e rendere molto tollerante la menzogna siccome il vero problema è non essere visti non è più un problema se sbagliano a raccontarti o se raccontano il farzo tutto il problema è tenere nascosti i dati no guarda io proprio l'universo sassone inglese allora io li trovo a parte che hanno conquistato il mondo ma li trovo sempre così ma nemmeno sassone inglese scusate ho sbagliato completamente quello americano perché gli inglesi sono dei grandi geni mentre invece gli americani sono la feccia scappata dall'Inghilterra cioè quelli presi a cacci dagli inglesi che hanno fatto poi nel territorio americano delle osse errorifiche ecco più che sassone più che anglofono anglofono americano americanofono cioè quello che perché tutto questo non arriva dall'Inghilterra l'inglese ho sbagliato scusate faccio ammenda faccio ammenda vedi sono ignorante sono gli americani diciamo tutte queste queste follie che sono delle diciamo degli inglesi di serie infima sono nemmeno degli inglesi gli inglesi l'hanno l'hanno mandati via e loro lì si sono rinventati con un po' di francesi anche loro mandati via scappati insomma hanno fatto hanno messo in piedi dei teatri io li trovo assolutamente non divertenti ecco quello che ci hanno gli americani è che non sono mai veramente divertenti e completamente tranne delle eccezioni cioè Woody Allen e qualche cugino veramente inagibili tipo questa pesantezza legata alla privacy che poi appunto ha come credo che abbia veramente come origine preoccupatevi di questo così noi possiamo inventare e voi rispetto alla menzogna siccome non l'abbiamo reificata come problema vi agitate molto meno rispetto all'idea di avere tutti i dati che mi testimoniano quello che sei ecco va bene via andiamo all'enscape zarzi ecco perché il tablet è proprio l'opposto dell'enscape è assolutamente anerotico quanto di più rettangolare ecco forse anche nel paesaggio c'è la fuoriuscita dalla dimensione rettangolare sapete quanto io faccia fatica a amare come 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 realtà di estesis l'angolo la rettangolarità ecco nel paesaggio soprattutto anche al mare è la dimensione ellissoidale questa accoglienza ellissoidale quest'andamento per cui ti senti in una dimensione in cui il curvo lo stondato l'ellittico l'ellissoidale sono dominanti ti fai parte di quella di questa realtà che non è più la realtà umana della produzione d'angoli ma direi fra virgolette divina dell'ellissoide dell'iperbole stai dentro un grande un'immensa ovularità un uovo come ti senti ecco forse sentirsi parte di questo grande uovo vivente perché poi anche il paesaggio finisce per essere un vivente però deoggettuato spazializzato con questi andamenti non queste linee curve di cui ci si sente parte dalle quali si sente ci si sente tirati fuori fuori nello spazio si si vede per esempio la linea dell'orizzonte se uno va non ci sono persone che distraggono c'è una luce possibile si vede proprio l'andamento a curva a curva elissoide e così il cielo da sopra che diventa una cupola ovoidale è straordinaria questa dimensione qui questa percezione no non retta non rettilinea dello spazio lo trovo proprio da amare amanda amando paesaggio amando mi riconcilia con la vita ecco questa vita troppo piena di armadi di scatole di banchi di sedie di angoli ecco mi riconcilia con questa dimensione così mi fa sentire più simile alle foglie alla loro curvilineità vabbè via buonanotte auguratemi buon paesaggio buon skype poi skype c'è skype land skype no land skype no ragionare su skype che tristezza sono paesaggio eroto paesaggista paesaggio paesaggio filico dovrei sapere che ho mancanza per esempio del greco se non così accidentalmente per me è un problema perché è da lì che si attinge e che si gioca alla realizzazione di parole nuove e quindi che mi diverte fare verificherò poi tramite la mia amica capitagna come si dice paesaggio filia rimane paesaggio filia come diventa paesago filia paesago filia questa questa paesago filia via buonanotte buongiorno